Rapone, borgo delle fiabe e anche paese dell'artigianato, ci parli dei suoi lavori? Ecco, io da finta piccola ho questo hobby dell'uncinetto, quindi questi sono dei cestini fatti prima con l'uncinetto, col filo e poi inamidati con acqua e zucchero, acqua bollente con lo zucchero che si scioglie e poi si fanno asciugare al sole su una forma, un vaso, qualsiasi forma che uno desideri fare e si essiccono al sole finché diventano duri e poi porta caramelle, cioccolatini, quello che uno vuole adoperare, poi dei centrini a forma di stella anche per Natale poi faccio dei completi per la camera da letto, centrini lunghi, lungo per il comò e corti per i comodini, varie forme, varie misure, copritavoli, anche copriletti matrimoniali anche. Questi sono vari lavoretti a punto croce e qui rappresentano i cinque personaggi delle nostre fiabe di Rapone, questa è la maciara, questa rappresenta il pozzo della Manolonga, questo è lo scorciamano, il lupo mannaro e lo scazzamauriedo, il più simpatico, perché è rosso. Che cosa rappresenta lo scazzamauriedo? Lo scazzamauriedo qui si dice che è un folletto un poco birbante, diciamo, che si dice che si viene a mettere la notte sul tuo corpo che non ti fa dormire, però se tu riesci ad acchiappare il cappello rosso puoi prendere tutto il suo tesoro che c'è questa pendola piena di monete d'oro, le credenze. Poi qui ha fatto dei vari, pure punto croce, figure di santi, questo è San Vito che è il nostro protettore di Rapone, poi il cuore di Gesù che anche noi adoriamo tanto a Rapone, qui perché c'è la reliquia della Madonna di Fatima che si onora anche qui a Rapone, la corona, qui anche la Madonna con la sua corona, qui c'è San Antonio che anche da noi pure si festeggia e questa è una cartina della nostra Basilicata o Lucania.